sto facendo dei corsi molto approfonditi su come si farà a realizzare un gcode con cura 15.4.6 e giustamente mi hanno chiesto come si fa a tradurre in italiano questa versione che non c'è la spunta per tradurlo in italiano allora dovete seguire questo procedimento aprite il vostro disco locale C vedete che sto cliccando qua a sinistra dove ho il mouse vedete che avete due cartelle programmi e programmi per 86 cliccate sul per 86 e cercate cura 15.4 entrate in questa cartella che vedete e poi anche il locale qua ci sono elencate tutte le cartelle in cui all'interno ci sono tutte le informazioni tradotte in ogni lingua la lingua che viene letta automaticamente da cura è EN e noi non dobbiamo fare altro che rinominare la cartella EN e ENG l'inglese che veniva letta automaticamente perché si chiamava EN ora non viene più letta IT invece che è la lingua in italiano la rinomino subito e la rinomino con EN ovvero sto dicendo cura quando ti avvi leggi tutto quello che c'è dentro la cartella EN e ora dentro EN c'è tutto quello che è l'italiano fatto questo mi raccomando chiudete e poi riaprite cura una volta aperto sicuramente tutti i testi sono tradotti in italiano così come vedete nel mio la traduzione è fatta quindi il video è molto breve e una volta che fai la traduzione ti do un piccolo spunto un piccolo consiglio vai su macchina parametri della macchina e imposta la tua macchina qua ricorda larghezza cioè x y e z numero degli estrusori 1 piano riscaldato si no io non lo uso mai il centro della macchina se state usando una cartesiana deselezionatelo tenetelo così se usate una delta selezionatelo perché il vostro centro della macchina è al centro forma dell'area di lavoro potete scegliere fra quadrata o circolare potete anche crearvi dei profili e andare su aggiungi nuova macchina voi aggiungendo nuova macchina dove non dovete far altro che selezionare la stampante che avete e ora mettiamo altre selezionare ancora il tipo di stampante che avete e ora cerchiamo la stampante che uso io bene o male qualcosa di simile per usa e una volta che cliccate su finish vi si apre il vostro nuovo profilo per modificare i profili non dovete far altro che oltre che crearne un po' per ogni stampante che usate andare su macchina e poi selezionare la stampante che utilizzate potete salvare i parametri ma soprattutto salvare l'area di lavoro in modo che ogni volta che cambiate stampante non ci mettete una vita io purtroppo non li utilizzo ma ogni volta entro in parametri macchina e definisco la mia larghezza perché? perché ho preso l'abitudine a far così e non ci metto niente se questo corso qua ti è stato utile e sicuramente ti è stato utile perché me l'hai chiesto metti un bel like e condividilo alla prossima ciao 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 ciao